La formazione bianconera viene eliminata dalla UEFA Champions League. La formazione bianconera viene eliminata dalla UEFA Champions League. La formazione bianconera viene eliminata dalla UEFA Champions League. La formazione bianconera viene eliminata dalla UEFA Champions League. Sono quelle cicatrici che comunque rimarranno dentro di noi per tutta la vita. Forse se qualcosa in più tutti quanti a livello di rabbia agonistica la dobbiamo tirare fuori. Forse abbiamo dato troppo per scontato che vincere sarebbe stato facile, ma abbiamo provato sulla nostra pelle che vincere non è mai facile.